La modernità, o per meglio dire l'ormai sopraggiunta rivoluzione in chiave sostenibile dei motori ha bussato di fatto a tutte le porte dei grandi brand del settore, tra questi, Alfa Romeo e la modernità, o per meglio dire un restyling da sogno, e che è anzi molto più di questo, un grandissimo ritorno che porterebbe gli appassionati del genere e, nel complesso, tutti gli amanti delle auto ad un plauso collettivo. Un restyling da sogno, e che è anzi molto più di questo, un grandissimo ritorno che porterebbe gli appassionati del genere e, nel complesso, tutti gli amanti delle auto ad un plauso collettivo. Un restyling da sogno, e che è anzi molto più di questo, ma come? È presto detto. Alfetta si riapproprierebbe della scena tornando in versione let. Proprio così, in una rimodulazione, rinnovata e sensazionale, della mito, è pronta a far luccicare tanti occhi, tra marcorde ed entusiasmo da in. Proprio così, in una rimodulazione, rinnovata e sensazionale, della mito, è pronta a far luccicare tanti occhi, tra marcorde ed entusiasmo da in. Del resto il rinnovamento contraddistinto da un grande rispetto della tradizione è da sempre stato uno dei leitmotiv progettuali ed operativi della Alfa Romeo, che non ha mai rinnegato. Del resto il rinnovamento contra ciò di cui si parla da un po' è proprio quello che sarebbe un incredibile ritorno, quello del modello iconico, e tra i più rappresentativi. Alfa sta pensando all'alfetta elettrica, ma davvero? Secondo alcune ricostruzioni, l'auto potrebbe far ritorno nella modalità di berlina coupé all'interno del segmento C per affiancare. Alfa sta pensando all'alfetta elettrica, ma davvero? La nuova alfetta sarebbe perciò un'auto dalla natura sportiva, e legata al presente. Alcuni rumors sostengono che la nuova Alfa Romeo alfetta possa riprendere alcune delle linee stilistiche della generazione precedente, ridisegnando però il tutto in chiave a tua specie in ottica tecnologica.